E benvenuti a Gurulandia! Il podcast di cui non avevi bisogno! Signori, benvenuti! Nuova puntata e nuovo ospite, Roby, comunque si alza sempre la qualità qui. Sempre, sempre, sempre. Ogni volta, qualche centimetro in più, l'asticella. Oggi tanto valore. Oggi abbiamo con noi, ladies and gentlemen, Filippo Angeloni! Sì, esagerati, esagerati. Però oggi, ragazzi, ve la rischiate, avete trovato un fuffa guru vero, eh? No, 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 di alti livelli, quindi ve la rischiate, attenzione. Quello, vabbè, sarà il pubblico a dirlo, sui commenti. Allora, Filippo, noi partiamo sempre su ogni puntata con la più classica delle domande. È proprio la prima domanda che facciamo a ogni ospite che viene qui. Sempre questa domanda. Se non la facciamo, succede qualcosa. Tante persone arriveranno qui che già ti conoscono, tante probabilmente no. Quindi, chi è Filippo Angeloni? Chi è? Cosa fa? Però siete i bastardi, perché questa è la domanda più difficile. Eh, lo so, è la più difficile. Che intendete, a livello personale o a livello lavorativo? Entrambe, entrambe. Iniziamo la storia. Un po', un po', sì, un po'. Dottor Jackie, veni in stride. Un po' quella che è la storia, dai, di Filippo Angeloni, da dove... Chi sei? Cosa fai? Da dove inizio? Dai, da dove inizio anche con questa carriera? Da dove parte tutto? Esatto. Allora, inizio che probabilmente mi inizia a interessare di finanza, di... dopo di criptovalute in realtà, prima di finanza e di finanza basse, di finanza personale. Allora, scusami, facciamo un saltino ancora più indietro. Di cosa ti occupi? Ok, ok, ok. Allora, noi facciamo sia formazione finanziaria che anche consulenza finanziaria. In questo momento ho tre società, New Digital Finance, CoinSquare, che è una community cripto, e tra le più grandi che ci sono qua in Italia, e Atene SCF, che invece è una società iscritta a un albo finanziario, l'albo ACF, dopo magari ne possiamo parlare, che fa proprio consulenze finanziarie. Ottimo, top. Ovviamente, scusa, tutti i link di riferimento alle varie società di Filippo li trovate in descrizione su YouTube, quindi se ci state ascoltando su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, eccetera, eccetera, venite su YouTube che trovate tutti i link in descrizione. Grazie, grazie. No, dicevo, io mi inizio a interessare di finanza alle superiori. Io alle superiori ero tutt'altra persona, secondo me, cioè ero una persona super timida, anche adesso un po' lo sono, però ero veramente taciturno, faticavo proprio a parlare, un po' a esprimermi con amici, società, soprattutto persone anche più grandi di me, e persone che sapevano più di me di una determinata tematica, e poi ho utilizzato anche i social, no, per curare, tra virgolette, questa mia mancanza, che poi in realtà non è una mancanza, era una tipologia di carattere. C'è il tuo modo di essere. Sì, e ho avuto un po' la sfiga, tra virgolette, di leggere un libro di Kiyosaki, Padre Rico, Padre Povero. La Bibbia! Sono partito da là, sono partito da là. Tutti partono da lì. L'ho letto di notte, cioè proprio tutta una tirata di notte, e ricordo il giorno dopo arrivai a scuola distrutto perché non avevo dormito, e ancora a ripensare, a rimembrare tutti i vari concetti, no, magari di comprare attività, quindi di spendere soldi in attività, di investire, di evitare passività, e tutto ciò che dice Kiyosaki, no, l'importanza di costruirsi delle rendite, quelle che lui chiama passive, il quadrante del cash flow, eccetera. Acquisizione di assets costanti. Quel libro lì è lo starter pack. È lo starter pack, cioè tutti partiamo da là, la verità è questa, tutti partiamo da là. Ovviamente alle superiori ero più facilmente psicolabile, quindi ho subito una riprogrammazione da Kiyosaki, la prima riprogrammazione mentale da Kiyosaki. È stato il tuo primo guru? Più o meno ti ricordi? Probabilmente era verso il terzo o quarto superiore. Quindi 16-17? Siamo cotani, quindi più o meno sì. E da lì iniziai un po' a cambiare, cioè ero sempre ovviamente timido, però ho visto i soldi in maniera diversa. Poi sul libro Kiyosaki c'è la storia del padre ricco, padre povero, io ho una situazione un po' simile, analoga, che ho una mamma che è un'imprenditrice, a fare da tre generazioni, è più, se vogliamo, sui quadranti di Kiyosaki, in realtà è più da lavoratore autonomo, più che imprenditrice. Che settore si può dire? Sì, sì, fa rivendita di mobili sia da interni, sia per B2B che B2C. Ok. E hanno un grande capannone che mettono in affitto, quindi ho visto questa sua idea di business, i soldi che giravano magari lì, e quanto si impegnava, le soddisfazioni, poi ho avuto invece, ho ancora per fortuna un papà, che ha lavorato da Iveco, quindi era capofficina, vendeva praticamente pezzi da ricambio per ricambio. Comunque dipendente. Dipendente, proprio il classico dipendente, che tra l'altro, questa è la storia vera, a destra del capannone dove stiamo, che dopo ho fatto la sede aziendale lì, sul capannone della mamma, a destra di questo capannone, proprio se esci dal cancello, c'è la sede dove lavorava il papà, adesso è in pensione. Quindi il classico dipendente che lavorava, appena c'era un problema lo chiamavano, doveva scendere di casa a lavorare. Quindi ho visto un po' queste due differenti tipologie di lavoro, e intanto loro, se vogliamo, sui quadranti del cash flow di Kiyosaki, erano uno sui dipendenti, quindi quadrante in alto a sinistra, e uno quadrante in basso a sinistra. E già ho visto che c'era un'enorme differenza. Poi si ha... Proprio di mindset, cioè di... Di mindset. Che tipo di differenza? E allora, è un po' analoga questa cosa, è un po' inusuale, non è comune avere una situazione. Come sta analizzando tipo la famiglia, no? Cioè è figa questa specie. Non è comune avere una situazione di questo tipo, però se posso dirti è anche un po' una fortuna, cioè te già in casa, comunque già in giovanità, potevi vedere delle differenze sostanziali, esatto. E farti anche un'idea, no? Di quello che poi... Sì, perché l'ambiente comunque, soprattutto nell'adolescenza, soprattutto in primi sette anni, il tuo cervello viene programmato in una certa maniera, dalle guide, dalle guide che hai, quindi i genitori, dalla scuola, dall'ambiente circostante. Chiaro. E quindi ho avuto un'educazione dal papà che mi diceva certe cose sul lavoro, no? Sì. Quindi devi studiare, evita certi lavori, magari prendi una laurea, quello che dicono sempre, ma è vero, cioè ho avuto questa educazione dal papà e ho visto che adesso è andato in pensione, per carità, ha avuto le sue soddisfazioni, però sì, aveva il suo stipendio tranquillo, nulla di eccezionale, però lui ha dato la vita probabilmente al lavoro, al datore di lavoro, nel senso, però ovviamente ha fatto arricchire un... È quello. Si è goduto la vita, nel senso, non è che ha fatto una brutta vita, però io... Serenità, tranquillità, senza... Ok, è una scelta. Mentre ho visto dal lato della mamma, soprattutto anche dai nonni, i nonni invece, cioè soprattutto il nonno era più imprenditore, quindi al quadrante, in alto a destra di Kiyosaki, e anche investitore, ho visto come gestire business, tutti i soldi che giravano lì su quel business, e anche il fatto di investire, di investire in borsa. Loro investivano con consulenti bancari, quindi sicuramente si poteva fare di meglio, però erano cose... Però magari ne parliamo anche di questo, sì. Anche le credenze sul denaro, magari dal papà alla mamma, o dal nonno, erano totalmente diverse. Chiaro, certo. Te tipo inquadri le persone in base al quadrante di Kiyosaki? No, no, no. Oddio, una volta sì, una volta sì, perché io sono stato sempre strano, perché poi tutti i ragazzi taciturni tendono un po' a fare un po' i filosofi, ad osservare, a stare in disparte, a vedere quello che accade tutto l'ambiente esterno, e pensavo un po' a tutto, cioè quindi riflettevo su qualsiasi cosa, veramente su tutto, su quello che sentivo, quello che dicevano altre persone, come vestivano altre persone, che macchine avevano, tempo libero a disposizione, sogni. C'è una statistica per ognuno. Sì, sì. Analizziamo le KPI. Alle superiori, ecco, io ero parecchio strano, lo ammetto, poi tutti siamo un po' pazzi a nostro modo, però io ero parecchio strano. Cioè, contate chi ha visto, alle superiori c'è chi aveva magari poster di, non so, del Piero, qualcosa degli 883. Sven Bat, Chris Liebing. Io avevo delle locandine. le serate che facevo. Esatto. Io no, io no, avevo il poster di Robert Kiyosaki proprio sopra il letto, e dentro l'anta dell'armadio interna i quadrati del Viesolo. L'idolo, grande. Quindi io avevo subito una pesante riprogrammazione mentale. Lo voglio fare, lo voglio fare anche io con Mark Zuckerberg, me lo voglio mettere un punto in casa, cioè proprio, da tutte le parti. No, però gialla, c'è insomma, c'è un bel tanto di cappello. Per me è stato un mito, cioè, adesso lo rivedo, lo vedo con occhi diversi, anche perché ha i suoi scheletri nell'armadio. Non lo idolatri più come avanti? No, no, no. Anche perché, questo non importa chissà quanto, però ha una società dove ha fatto bancarotta, vende corsi e seminari a 45.000 euro, quando io trovo sia scorretto, nel senso, anche io sono per l'iTicket, magari ne possiamo parlare, però, se vuoi veramente cambiare la vita a una persona, che magari non ha soldi, 45.000 euro, per un seminario forse sono al limite. Non è che gliela cambia, gliela distruggi, se glieli togli. Personalmente, la truppa. Quanto sei distante ora, rispetto alla mentalità di Kiyosaki a quei tempi, quando lo leggevi? Cioè, sei ancora in linea con il suo pensiero o lo hai un po' modificato? In parte sì, adesso però, prima vedevo malissimo il fatto di lavorare da dipendente, proprio un estremista, veramente estremista Kiyosaki, 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 se si può dire qualcosa così. Adesso no, no, no. Rispetto chi lavora da dipendente, chiaramente sono scelte, cioè se vuoi un certo si è di vita, se vuoi qualcosa in più della vita, devi passare, comunque è vero, quello che dice Kiyosaki, sui quadranti di destra. Adesso comunque, secondo me, chiunque, anche chi fa il dipendente, deve comunque passare sul quadrante di destra, almeno sul lato degli investitori. E anche qui, per la, che puntata è questa? Sesta? Settima? Diversificazione, ma è quasi sopravvivenza comunque ormai. Ormai si chiama sopravvivenza. Sopravvivenza, sì sì. Quindi ormai è un passaggio obbligatorio. Ok, quindi poi dalle superiori poi procediamo con la storia. No, è una storia, no, è normale. Poi intanto ci perderemo 800 volte, sempre così, ci si aggancia a 800.000 discorsi. Adesso siamo alle superiori, ragazzo un po', diciamo, fuori dagli schemi, notte passata in bianco a leggere. Cioè io studiavo magari anche quando andavo anche dalla ragazza dove c'erano i genitori, tutti guardavano le partite di calcio, io invece ero sul divano a leggere, che so, hosting, leggevo di tutto, come creare un sito web. Cioè non parlavo con nessuno, stavo sul divano a imparare qualche skill. Quindi no, ero strano. Dopo ho subito un po' il fatto, perché vengo da una famiglia ben agiata economicamente, dal lato della mamma, quindi dei nonni materni, ho subito il fatto anche del figlio, tra virgolette, non del papà, della mamma in questo caso, quindi del figlio un po' ricco che ha avuto tutto subito dalla vita. Sicuramente sono stato fortunato, è chiaro. E lì per lì cosa ho fatto? Sono andato a lavorare in quarto superiore al McDonald's. Veramente, cioè sono proprio lavorato un anno al McDonald's. Hai detto una cosa che sicuramente nessuno si aspettava, perché dici... Sì, infatti mi hai spiazzato subito. È stato tipo un rigore. Perché ti cerchi un po' di castigare da solo? Non tutti hanno questa... No, no, grande. ...questa problematica, però chi... chi nasce in famiglie benaggiate economicamente o ricche, alcuni sì, come me. Io l'ho subita molto pesantemente questa cosa qua. Non che mi si... Magari gli amici o che non dicevano nulla, però non trovavo giusto e corretto il fatto che io ho avuto fortuna nella vita, nel senso che sono cresciuto su una famiglia che comunque se, che ne so, si chiedeva una cosa me la davano subito. Dopo io non chiedevo perché sapevo, cioè mi dà fastidio questa cosa. Grande, applausi. Grazie, grazie. Sì, mettiamolo l'applausino un po' stediting. Bellissimo. Bellissimo, bravo. Quindi ho fatto al quarto superiore a lavorare a McDonald's e lì già mettevo da parte dei soldi anche perché lavoravo il pomeriggio, la mattina andavo a scuola, non riuscivo neanche a spendere soldi. la sera o la notte qualcosina studiavo per non farmi bocciare e quindi avevo già messo da parte un po' di soldi che avevo iniziato un po' a investire forse qualche anno dopo in realtà. Ah, ok. Primi investimenti? Primi investimenti su fondi azionari a gestione attiva tramite una consulente di Unicredit. Ok, quindi anche te sei partito da consulente bancale. Da consulente bancale, sì, sì, chiaramente sì. È stato Kiyosaki ad avvicinarti al mondo della finanza oppure c'è stato tipo Sì, sì, no, no, Kiyosaki. Allora, io ho visto sempre, cioè vedevo anche già la differenza tra il papà e quello che faceva anche il nonno. Cioè anche i soldi che vedevo girare in casa perché una volta si pagava anche più facilmente in contanti, non erano adesso. E quello là dopo, solo ad oggi scopro che quelli là sono comunque inneschi psicologici si chiamano. Sì, sì, sì. Nella mia famiglia è stato sempre normale lasciare soldi, magari anche parecchi soldi sulle mensole, sul tavolino. Ce l'hai inconsciamente? Questo non era un tabù il denaro, era una cosa normale che vedevi lì nessuno lo rubava e era normale. Nessuno c'era paura neanche che venisse rubato questo denaro. Ok. E solo dopo a scoperti questo in realtà è un innesco psicologico si chiama, questo qua. C'è qualcosa... Raccontaci di più. Allora, interessante. Questo serve per riprogrammare un po' la mente sul concetto di denaro. Tu più sei esposto ai soldi, più diventi egoista tra vivetto e stronzetto però più ti abitui a trattare il denaro e a guadagnarli di più. Quindi diventi egoista, ci sono proprio contro, diventi egoista, è vero, ci sono studi, però ti abitui ai soldi, cioè non sono un tabù, capisci che non sono il male, sono solo un mezzo per raggiungere un fine. Vero. E sei molto più a tuo agio con i soldi. Sì. Io se vedo una banconota non mi fa effetto in realtà, è una cosa normale per me. O una mazzetta anche di banconota, è normalissima. È vero, è vero. Quindi ho fatto quarto superiore al McDonald's e poi ho iniziato un po' a investire, uscito dalle superiori ho fatto economia, economia e commercio e ho iniziato a lavorare come pizzaiolo che tra l'altro condividiamo la stessa passione. Grazie ragazzi. Che forse quello è il lavoro migliore al mondo, molto meno stressante. Per me è stato il peggiore. Tagliato, tagliato. A me piaceva molto, molto meno stressante rispetto ad oggi e tra l'altro ero bravo, avevo un'ossessione che mi piace tantissimo. Quale le pizza? Sì, la pizza è un'altra che infatti oggi abbiamo mangiato una pizza, non a casa. Io ho scelto la pizza perché è una delle altre mie ossessioni. Mi piace mangiarla già da quando avevo due o tre anni e mangiavo una intera. Quindi continuo a farla anche in casa magari. Continuo a farla anche in casa, sì. Ero diventato parecchio bravo a fare il pizzaiolo. C'avevamo, non so, farina caputo, perla. Grande, farina caputo, super farina per fare la pizza. Caputo Nuvola? Utilizziamo il pacco blu o rosso. Quello rosso è migliore. È così che si trasforma in pizzalagna. Prossimo hostil. Quello rosso è migliore perché ti tiene delle idratazioni più alte. E già iniziavamo a fare con quelle pizzeri gli impasti con alta idratazione, levitati, che vengono una bomba. La farina che lui ha nominato è la farina tipo Totem per gli impasti ad alte idratazioni. Poi Napoletana, facciamo buona. Guarda, la farina caputo è la farina utilizzata io ho fatto il pizzaiolo in America, in Australia, in Inghilterra. Tutti caputo? È la meglio, è la meglio di tutti. Ha una grande forza con la farina. Farina caputo. Comunque Napoli comanda il mondo per quanto riguarda la pizza. Gli mandi? È veramente, sì, sì. Quindi ecco, faccio il pizzaiolo mentre studio all'università e metto da parte dei soldi che poi continuo ad investire. All'università poi conosco un ragazzo che porta una tesina sulle criptovalute e parla appunto di bitcoin, di cripto, di criptografia. Che anno era? Più o meno. Forse poteva essere, non vorrei sbagliare, tra il 2012 e il 2013. Quindi proprio gli albori. Comunque era l'anno, adesso poi lo ricercheremo, è l'anno in cui nasceva, se non sbaglio, anche Ripple. Non voglio dire una cavolata. Che Ripple si trovava scambiata solo su Bitstamp, era l'unico exchange che gli faceva da Gateway, dove è stato lanciato a 0,000000 e lo incoraggiavano per le commissioni, per far pagare poche commissioni su quell'exchange. Quindi a fine tesina che ha portato questo ragazzo, gli vado a chiedere ma tu hai delle cripto? Ancora non sapevo nulla. Tu hai delle cripto e lui mi fa vedere sul computer dove proiettava questa presentazione, mi fa vedere i wallet, cioè un po' di bitcoin, tantissimi litecoin, veramente una cosa assurda quanti Ripple aveva. Io già seguivo il mondo finanziario. Che fine ha fatto ora? Adesso te lo racconto. È finito male però. Vedi? È classico. Ogni storia sulle cripto. Sempre, non c'è mai un lieto fine sulle cripto. Quindi, niente, porto a questa tesina mi fa vedere quanti bitcoin e quante cripto ha. Io lì iniziavo a studiare appunto economia, quindi anche là già iniziavo a capire qualcosa di più sul mondo degli ETF, sui investimenti passivi, sul fatto dei consulenti finanziari indipendenti e così via e esco dall'università e mi lancio e vedo che c'è un vuoto di mercato perché avevo studiato anche questo, c'era imprenditorialità 1 e 2, business plan, eccetera, e c'era un bel libro che si chiama Oceano Blu, sicuramente lo conosce. strategia Oceano Blu, vedo che in Italia c'erano solo due persone che parlavano su YouTube delle cripto, non c'erano guide, non c'era nulla. Io già lo seguivo le cripto perché c'erano altri due blog che poi hanno chiuso, c'era Rischio Calcolato e anche altri blog che parlavano già di bitcoin e cripto quando stavano magari bitcoin a 200 dollari, io non sono entrato là, sono entrato un po' più avanti, e quindi già qualcosa ne sapevo, però ho iniziato dopo, cioè non ho iniziato quando era a 200 dollari, ho iniziato forse con bitcoin a 1000, 1500, qualcosa che comunque va bene. Allora comunque ha fatto un bel piccolo. Sì, oggi è a 23. Per fortuna, scendeva da qualche buon giorno. Era tanto come si vedeva un bel... Quindi niente, vedo questo oceano blu e dico, no cavolo, qua mi scibutto e inizialmente condivido le mie esperienze perché non sapevo granché sulle cripto e non c'era materiale in italiano. In che modo le condividevi? Su YouTube? Su YouTube. Scoprivo una cosa come fare un setup di un wallet che ai tempi ancora poche persone lo sapevano fare, era difficile ai tempi, c'era solo materiale internazionale in inglese e quindi porto un po' quello che c'era in America e lo porto qua in Italia. Che è un po' un classico. È un classico, sì, sì, chiaro. Quindi sono stato fortunato, cioè sono stato un'altra volta fortunato perché è il posto giusto al momento giusto. il tuo primo seguito ora il Filippo vorrei ricordare che ha più di 30.000 iscritti su YouTube. Sì, 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 esatto. Come fai? Io ho quattro anni al canale YouTube, un video a settimana siamo a 7.000. Devi trovare il trend giusto. Io ho aperto il canale prima dell'euforia del 2017 e quindi ho aperto il canale e mi è andata bene. è esploso sia le cripto che il canale. C'è stato il trend che ha aiutato. Che ha aiutato tanto. Quindi io ho iniziato così con YouTube, ho iniziato a fare delle consulenze tecniche non finanziarie sulle cripto e ho riempito l'agenda. Cioè il mio obiettivo ancora era molto basso, cioè l'astricella era bassissima, era fare 1.500 euro da casa all'inizio. Vabbè, ci sta, ci sta. Il primo step è raggiunto. Dopo vedo, cavolo. Sempre comunque la consulenza veniva prenotata perché la persona ti vedeva su YouTube. Su YouTube, sì. Ah, wow, grande. Tutto organico. Dopo ho lanciato il blog. Il blog mi ha messo tantissimo a partire. Anche 3-4 anni. Dopo adesso è partito un buon blog mio. Filippangioni.com slash blog si chiama. Filippangioni.com Ma però a livello finanziario c'è chi bazzica nel mondo della finanza è probabile che ci è passato. Dario, te lo conoscevi? Filippangioni.com Filippangioni, sì. Il blog no, ok. Non abbiamo saturato ancora il mercato. Ottimo. Meglio così. Alzo la frequenza. Ok, top. E poi ora mi hai detto all'inizio dicevi che avevi hai tre società all'attimo. Tre società, sì. Poi vabbè. Sì, ho una società che fa formazione finanziaria su asset class tradizionali per lo più. Poi facciamo anche consulenze o meglio, deleghiamo consulenze fiscali, deleghiamo consulenze tecniche, facciamo anche altro. Poi c'è un'altra società con InSquare dove facciamo podcast, live, dove abbiamo magari anche dei programmatori a cui delegare il lavoro. Ah, te fai già podcast, quindi? Facciamo, tra virgolette, non è proprio un podcast, è una live su YouTube, la facciamo il mercoledì e è conosciuta nell'ambiente cricolo. Comunque si vede abituato a parlare. Ma è anche piacevole per me ascoltarti, veramente bello, interessante. No, sì, sì, assolutamente. E poi Atena invece? Atena nasce solo a fine 2021 e ci hanno dato... Quindi l'ultima è stata. È stata l'ultima. Ci hanno dato la delibera per operare perché lì è proprio una società dove sono... è vigilata la società dall'OCF che è un albo che è degli organismi, tu lo conosci bene, l'organismo dei consulenti finanziari e ho iscritto la società e mi sono iscritto come persona fisica. Quindi adesso sono vigilato OCF e tra virgolette sono anche vigilato Consob. Ok. Quindi devo anche stare attento a cosa dico. Eh, esatto. Sì, la Consob so che è molto... Cioè, controlla tappeto parecchio, vero? Sì, sì, sì. Poi più è normale, più hai visibilità. Che era Fedez che aveva problemi sempre con... No, quello era un altro ente. Un altro ente. La Consob comunque... Comunque ho sentito. Per chi lavora nella finanza so che la Consob è molto dura e si assicura che tutto è in regola. Che tutto fili liscio. Infatti so che tanti... Per esempio chi fa sale trading o questa roba qui e viene martellata. Sì, sì. Vabbè, sì. L'andert scatta sempre. Hai un canale Telegram, Filippo? Ok. No, però non facciamo segna. Non mi arrestano, direi. Un blitz e squadra suota. Sono già dietro la porta. Trading non lo fai? No, no. Trading... Breve periodo no. Adesso iniziamo... Stiamo iniziando a fare corsi formativi in opzioni. Opzioni binarie? No, no, no. Opzioni finanziarie. Ah, ok. Opzioni finanziarie. Slack... Però facciamo più investimenti a lungo periodo comunque. Ok. Investimenti a lungo periodo. Trova un po' più seria, insomma. Sì, sì. Facciamo ETF. Adesso ecco, se stiamo introducendo opzioni lo puoi fare su qualsiasi sottostante, quindi azioni singole, ETF, anche sulle criptovalute potresti fare. Ovviamente siamo focalizzati anche sulle cripto perché nasco proprio con le cripto. Immagino che il tuo target di riferimento, il tuo prospect è più magari... Un adulto. Esatto. Perché non sei un... Non ti rivolgi all'opportunity seeker. Bravi. Che magari è più attratto dal... Guadagno veloce. Dalla Lamborghini di Dubai di turno e dalla sala trading, ma ti... Immagino che il tuo cliente... Chi è il tuo cliente? Esatto. No, intanto bravi, forse perché siete del settore, siete gli unici che l'avete individuato, perché solitamente mi dicono ma tu hai un cliente magari sotto i vent'anni, sotto i venticinque anni. Difficile. Invece assolutamente no. Allora, intanto come funziona? Solitamente tu hai clienti più o meno della tua stessa fascia d'età. Eh, infatti. Ok. Mentre con me che succede? Che in realtà ho una fascia d'età molto più alta, più alta, diciamo più alta della mia. E te, cioè nel senso, ho diverse fasce d'età però la maggior parte sono diciamo sopra i 45 anni sicuramente. Sì, ma anche perché penso poi ovviamente nella legge dei grandi numeri la facoltà di poter investire determinate somme è più su un target più alto. Probabilmente anche per quello ma anche come ti esponi. Cioè noi non abbiamo fatto opportunity seeker ma volutamente per ora. Anzi, noi potevamo lanciare un percorso formativo piano B si chiama che era totalmente sulle cripto. Eravamo pronti per lanciarlo nel picco dell'euforia, dell'ultima euforia però cioè io sono anche per i business sono per fare nel lungo periodo. Quindi ho detto posso fare tanti soldi subito se lo lancio adesso però ho detto dopo mi sputtano nel senso perdo clienti faccio del male ad altre persone quindi l'ho lanciato adesso ai minimi. E' perché gli si fanno del male se non stanno ai minimi. Sì, sì, sì. Vabbè qui c'è un'etica forte perché penso che il 95% delle persone avrebbe comunque sfruttato il trend avrebbe ascoltato il diavoletto fai il corso e vieni. E ciaone io guarda sono totalmente d'accordo con te io lavoro sempre nella stessa linea di pensiero quindi si va a braccetto su questa cosa però è una cosa rara. No, noi nell'etica ci siamo dopo è chiaro che uno quando uno ha visibilità trovi gli haters che ti incolpano di qualsiasi cosa non esistente però fa parte del gioco. Allora mi sta piacendo un sacco questa puntata è super interessante tra l'altro veramente ti farò tanti complimenti durante la puntata perché mi sta veramente piacendo. Grazie. Ti volevo chiedere ovviamente abbiamo detto che ti occupi di gestione finanziaria pianificazione finanziaria per te e per i tuoi clienti ma voglio sapere qual è l'approccio che hai proprio quando come ti approccia la pianificazione finanziaria proprio a 360 gradi ovviamente dipende è una domanda molto generica dipende però non lo so come faccio a approcciare il cliente a questo esatto allora quando qualcuno viene in consulenza da me scusami scusate se interrompo il cliente che arriva da te non sa completamente niente di questo mondo o no no dipende arrivano anche persone molto molto avanzate anzi ho una storia carina qua ok questa è una domanda interessante esatto noi utilizziamo Calendly come programma per prenotare consulenze e piazzare su calendar ok quindi organizzo la mia giornata così vedo che prenota una consulenza un signore di all'incirca 82 anni quindi dico era già una giornata tosta perché provenivo dalla mattina alle 8 non avevo tutte consulenze a Google su Zoom e vedo cavolo questa sarà semplice un signore di 80 anni sulle crypto mi vuole chiedere ho detto chi mi vorrà chiedere mai fantastico invece entro in consulenza voleva sapere delle strategie sulla DeFi ok e inizio a dargliele e lui mi fa no no questa già la conosco andiamo avanti questa già la conosco quindi salgo sempre di più cioè appunto no no anche questa la conosco e dico cavolo inizio un po' a sudare e alla fine era al mio stesso livello sulle strategie DeFi questo signore 82 anni aveva anche 80 anni 80 anni parecchi bitcoin parecchi ethereum parecchi anche stable coin parecchi stable coin da utilizzare in DeFi e alla fine decido di rimborsarlo e ci sta grande è successo anche a me una volta sono sincero che a volte ti senti anche in difficoltà che ti entra in consulenza è una persona che è veramente veramente forte 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 e sì non ti resta che guarda gli fai complimenti e rimborsi perché può capitare può capitare certo assolutamente sono uscito da quella chiamata quasi misto tra depresso esatto come sei uscito quando hai chiuso la consulenza come ti sei sentito ho chiuso ho cliccato il tasto rosso una zoom ho detto che cazzo è appena successo 82 anni gli hai fatto qualche domanda a lui tipo su come si era avvicinato a questo 82 anni è insolito cioè voglio dire 82 anni zappa i pomodori era un signore sveglio già investiva sul mercato tradizionale e era entrato forse anche lui nel 2017 in mondo cripto seguiva gli piaceva e quindi ne sapeva ne sapeva tanto ovviamente tanto sai chi è abituato appunto investimenti comunque chi lavora in un determinato settore non c'è età cioè io sono sicuro che tantissime persone di qualsiasi età veramente ne sanno e ne sanno tante di queste cose guarda vai a chiedere a Warren Buffett della situazione cioè capito non c'è età su queste cose qui quando lavori nella gestione del denaro ci lavori a 360 gradi DeFi e non fa poca differenza più insolito sentire un 80enne che parla di DeFi però come hai detto te sicuramente quindi dicevamo abbiamo sia consulenze base che si parte dalla pianificazione di DeFi tutto dove non ne sanno assolutamente nulla sia persone molto skillate che vengono magari per migliorare strategie e opzioni su certificati su cripto quindi alcune consulenze sono parecchio toste cioè te le fanno è vero che ti pagano però te le fanno sudare mentre altre sono più sono più semplici e parti proprio dalla pianificazione a 360 gradi in pianificazione finanziaria c'è una piramide si chiama la piramide dell'investitore o la piramide degli investimenti dove il gradino più basso è quello delle assicurazioni poi c'è la liquidità poi gli investimenti tradizionali i fondi pensioni e le criptovalute a volte questa piramide è declinata con più gradini con più scalini però più o meno è questa li hai messi anche sul livello di rischio è certo è una cosa accademica è proprio così e la mente umana ci fa arrivare però non pensavo che i fondi pensioni quindi sono un po' rischiose esatto vengono all'incirca sullo stesso livello degli investimenti li hai messi subito sotto le criptovalute quindi poi dipende perché questa piramide può essere organizzata a modo diverso anche su più gradini dipende più o meno comunque a livello degli investimenti tradizionali poi ci sono fondi pensioni anche garantiti dipende dipende tanto che investimenti trattiamo i tuoi metodi di investimento preferiti quali sono? allora facciamo un esempio facciamo un gioco io Marco lavoro in un'azienda qui vicino a casa mia ho uno stipendio di 1800 euro al mese voglio iniziare a investire perché non credo nella pensione classica IMS voglio crearmela da solo quindi voglio cominciare a mettere un po' di soldi da parte per arrivare poi dopo 30 anni avere un bel patrimonio e poter vivere la mia vecchiaia in tranquillità come mi consiglieresti di? più che altro anche quanto è una persona normale con quanto è il minimo diciamo per entrare in questo mondo allora dipende su Atene SCF adesso stiamo facendo che sotto per ora in questo momento sotto i 200.000 euro di capitale non le prendiamo ma perché? perché poi siamo più cari delle banche può succedere quindi se viene un cliente che ha non so 50.000 magari prova a vendere un portafoglio modello dove andiamo noi a creare questo portafoglio e lui magari se lo replica in autonomia o magari un corso formativo perché? perché non vogliamo essere ladri anche qua vogliamo lavorare nel lungo periodo se vediamo che gli applichiamo una tariffa in percentuale gli viene magari più alto di quello che gli applicano i fondi di gestione attiva che lì sono al limite della truffa su lato banca gli fanno molte truffe ma quelle sono dappertutto noi siamo su Fuffaguru top level però legalizzato è legalizzato ma siamo altri truffe legali ci sono mamma mia guarda che le assicurazioni secondo me sono le prime truffe legali sì assolutamente vanno scelte bene vanno scelte bene dietro le assicurazioni c'è il pandemonio veramente quindi comunque a una persona ad esempio del genere che mi hai che ti ho appena detto sì poi magari ti faccio un altro esempio un po' più semplice partiamo comunque delle assicurazioni perché la mente umana ti fa partire dalla speculazione sulla piramide di prima che dicevamo ah quindi sia maschi che le femmine stipulano un'assicurazione perché per finanza comportamentale o emotiva tu parti dal sbagliando parti dalla cosa più rischiosa quindi tipo le cripto o trading segnali quelle che merdate là quelle cavolate là però si può chiamare anche ignoranza finanziaria ok ignoranza finanziaria però anche a livello umano cioè noi partiamo da là anche io sono partito da fondi di gestione attiva cioè mica sono partito dalle assicurazioni ma è normale vediamo come cose più veloci perché? perché siamo soggetti a bias emotivi bravo ricadiamo in errori comportamentali le donne un po' meno perché le donne hanno meno testosterone comunque meno sostanze che sono meno Andrew Tate quindi loro sarebbero veramente brave cioè le donne sono molto meglio cioè sono molto meglio dei maschi negli investimenti nel trading infatti non se ne occupano tutta la mia gestione finanziaria è delegata a mia moglie perché io no grande quindi iniziamo dalle assicurazioni dipende se uno ha la casa ovviamente la casa va assicurata se uno ha i figli è bene fare la polizza sulla vita è sempre bene fare una long term care cioè che è una polizza che se tu non decedi ma diventi invalido prendi una rendita ma lo sai perché per ritornare al discorso di prima perché secondo me le persone vedono le assicurazioni come un'uscita di soldi e basta è per quello che non scelgono questa come prima azione probabilmente sì poi anche perché molte assicurazioni soprattutto quelle online quando succede l'evento scatenante che sarebbe assicurato non pagano si attaccano a un cavillo e non ti pagano quindi uno dice ma perché devo buttare soldi qua certo l'assicurazione va scelta bene la compagnia assicurativa devi prendere una tosta e lì come funziona è che il premio che paghi è più alto se nell'anno precedente hanno rimborsato più persone cioè hanno pagato più persone non è basato singolo su di te il tuo comportamento precedente no anche così sulla polizza sulla vita ad esempio se uno ha non lo so 60 anni paga un premio tendenzialmente più alto c'è più rischio statistico polizza sulla vita non lo so io sarò un po' però nel senso è brutto pensarci però va non ci sarò più tu lo devi fare io lo devo fare ora sì ora sì subito dopo la puntata te la fai no no ma non vendiamo non vendiamo assicurazioni possiamo fare consulenza non le possiamo vendere le assicurazioni è chiaro non siete una compagnia assicurativa però è normale poi dopo le assicurazioni uno dovrebbe gestire e imparare a gestire la liquidità quindi si deve fare quello che in finanza che qui secondo me è la parte più interessante scusami Filippo non consiglio a una persona di entrare subito in etf così cioè c'è sempre degli step sì 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 c'è tanta roba tante roba bene cioè gli strumenti finanziari viene alla fine sul processo di pianificazione finanziaria viene alla fine gli strumenti finanziari e vedi abbiamo fatto un sacco di chiarezza secondo me tra le persone che ci ascoltano e che ci guardano da casa lui poi sta parlando ovviamente dell'esempio che ti ho fatto io no poi è chiaro che se una persona guadagna 1800 euro al mese non può subito pensare a lavorare su interessi composti o comunque andare a fare un piano d'azione ma questo vale per tutto in realtà anche per i ricchi comunque sempre bene partire dal sì ma se uno è ricco secondo me dall'assicurazione e dalla gestione della liquidità c'è già passato perché per forza passa un po' tempo perché il soldo mangia tempo è una conseguenza magari può aver rischiato tanto ha fatto una strategia allora lì però è fortuna fortuna non ha diversificato ha concentrato gli è andata bene ok però basta un attimo un calciatore c'era quella non so se hai visto su Netflix c'è quella piccolissima miniserie tv dove fanno dove vanno tipo dei consulenti finanziari a casa di alcune famiglie sì l'ho vista è figa vero no no gli fanno dei piani per magari farli campare di rendita di lì a 10 15 anni dopo l'ho vista è bellino è bellino e poi ci perdiamo di continuo è una cosa incredibile quando ti metti a sedere sei in un labirinto non esci mai quindi assicurazioni liquidità poi investimenti quindi magari un etf va benissimo per questa persona e poi se vuole io sono dell'idea che uno dovrebbe provarci anche con bitcoin quindi a mettere qualcosa qualche percentuale del capitale investito in bitcoin lo facciamo mettere sono d'accordissimo ethereum non sono tanto d'accordo io sì va bene comunque questo è importantissimo perché ho tanti casi chiaramente devi succedere sfiga però quando succede una sfiga e tu non hai messo a posto i gradini di questa piramide quelli bassi è come se manca la fondamenta quindi viene giù tutto il palazzo ad esempio tante persone nel periodo covid perché tu assicuri una cosa importante ho capito quello che intendi comunque ad esempio faccio un caso reale nel periodo covid una persona non aveva fatto un'assicurazione su eventi pandemici che una volta si potevano fare non costavano neanche tanto le consigliavo dopo è successo sfiga è successo quell'evento là covid-19 l'evento ormai c'è stato quindi difficilmente se lo assicurano questo qua o se lo assicurano fanno pagare parecchio una cosa del genere e lui non aveva neanche più liquidità quindi non aveva questa assicurazione non aveva più la liquidità perché aveva sputtanata per comprare una seconda casa che gli aveva detto di non farlo però l'ha fatto quindi era scoperto su questi due gradini aveva un'attività che il governo gli ha chiuso cioè non gli permetteva di tenere aperto in quel periodo pagava l'affitto quindi lui era fermo per le restrizioni si ok ok lui si è trovato costretto a vendere gli investimenti quando non era il momento perché poi a marzo 2020 cioè bitcoin in due giorni ha fatto meno 50 invece aveva bitcoin portafoglio comunque era un po' aggressivo ha fatto meno 20 e quindi ha dovuto vendere perché non c'era più liquidità ma è stato fatto non chiaro non era assicurato e quindi ha perso in quel caso là però ha venduto i bitcoin quando erano già scesi o prima? no no dopo dopo l'ha dovuto capito? quindi in finanza in realtà non deve succedere questo cioè quindi con gli investimenti la speculazione puoi anche fare soldi cioè li fai normale ci può stare soprattutto sulla speculazione se tu ti organizzi così è facile fare soldi cioè non è impossibile è facile è quasi una normale conseguenza però se non ti assicuri se non lasci liquidità basta un attimo del genere di calo di mercato dove succede anche magari una sfiga imprevista che tu ti trovi costretto a vendere in perdita cosa che non devi mai fare sugli investimenti sì però anche lì poi entrano in gioco appunto quelle che sono emozioni psicologia e non è per tutti non tutti riescono poi a gestire certe situazioni quindi ovviamente sì la speculazione sugli investimenti va benissimo come si sarebbe diciamo sempre che dipende dalla propensione del rischio poi è normale ma perché Ethereum no? voglio tornare un attimo su quella cosa sono un po' più massimalista no comunque non credi nel web 3.0? no no sì più o meno non tanto in realtà ah ecco perché credo più nella speculazione e nella stupidità umana dai dai io sono più da strategia contraria quindi in alcuni momenti dove c'è depressione nel mercato entro anche sulle altcoin magari o rientro su bitcoin senza problemi in altre fasi a me molti miei follower si sono arrabbiati tanto perché in altre fasi dove c'è magari il top di mercato dove c'è euforia gli ero uscito dalle cripto sì questo è intelligente questa cosa sicuramente dopo è chiaro che però nel lungo termine le persone ovviamente qualcuno si è arrabbiato quando ha fatto uscire un video dove dicevo che avevano indotto tutto sì perché poi magari che ne so gli avevi consigliato di comprare tipo un anno prima io credo molto in Ethereum forse anche più di bitcoin l'ho sempre detto vabbè ma può essere soggettivo forse non lo so allora tu più studi sul settore cripto più ti avvicini a bitcoin anche una volta ero più magari su Ethereum e su altcoin è normale anche lì si parte da là più studi più ti avvicini a bitcoin ti lasci stare un po' no ma sicuramente ci sta cioè bitcoin è il classico oro digitale ora non voglio entrare nel confronto eccetera eccetera la sfida però se credi nel web 3.0 negli smart contract in tutto quello che potrà essere sì cioè investire in Ethereum vuol dire investire in quella roba lì ma io quello che secondo me che credo lui pensi o comunque voglio trasmettere è che comunque sarà sempre la seconda moneta è un po' la seconda ma io ricerco anche allora se faccio speculazione vado anche su Ethereum e sull'altcoin sì 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 se ricerco altro tipo se ricerco l'incensurabilità l'impignorabilità di un asset allora è chiaro che tra bitcoin e Ethereum scelgo bitcoin tutta la vita per come è stopperato non hai tanta propensione al rischio ovvero sei molto cerchi di andare sempre sul sicuro comunque dipende quasi dipende comunque dipende anche dalle fasi della vita secondo me qui e qua sono anche un po' contro a Kiyosaki e a tutta anche la dottrina finanziaria su qualsiasi contenuto libro o video che vedi ti dicono sempre diversifica 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 è di buon senso ci può stare però io credo che se uno parte dall'inizio e vuole provarci deve un po' concentrare le forze magari anche su un unico asset magari può essere diversificato per carità cioè se scegli l'asset class delle cripto magari fai all in su bitcoin io in realtà ho fatto questo cioè il grosso del mio patrimonio è bitcoin è stato perché ho preso la botta sì sì anche sulle altcoin ma anche su cioè particolare su bitcoin chiaro 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 adesso una volta che uno ha costruito un buon capitale tende poi a diversificare dopo lo trovo super corretto diversificare ci sta è plausibile dai posso chiedere in un portafoglio tipo quale cioè che percentuale andresti a mettere nella DeFi e e quanto nonostante cioè quanto aspetta in un portafoglio cripto oppure magari ti rispondo a tutti e due no 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 in un portafoglio totale totale di patrimonio totale ti dico a livello finanziario è corretto un 3% nelle cripto e basta poi nelle cripto 3% su bitcoin o 5 massimo perché lui le mette sempre in cima alla piramide del rischio però io ho fatto una cosa diversa cioè noi già nel 2017 dicevamo anche su magari portafogli modello facevamo anche che ne so 20% sul su bitcoin che allora era qualcosa di crazy era folle bello spinto era folle a livello finanziario è corretto un 3% un 5% massimo massimo un 10% perché poi ti si sbilancia al portafoglio ah già anche 10% secondo me sei parecchio spinto sei sposto con 10% però predico bene razzolo male nel senso che io ad oggi ancora ho tanto nel mondo cripto cioè ho più nel mondo cripto rispetto al mondo tradizionale hai più del 10% hai molto più ok quindi adesso il mio lavoro sarà da quest'anno questa parte riquilibrarlo sembra giusto senti libri da leggere per diventare Filippo Angeloni hai qualche libro da consigliare a parte il padre ricco padre povero che c'è quello è lo starter pack lo chiedo perché lo chiedo perché a differenza di altri settori altri guru che magari sono venuti a Gurulandia secondo me per quanto riguarda gestione finanziaria o comunque ci sono tanti libri che comunque sono interessanti possono darti tanto chiaro parliamo nella puntata con Carlo Alberto dove c'era quel libro dove si spiegava quell'esperimento che fecero con le scimmie dove gli facevano lanciare le freccette le freccette salutiamo Carlo Alberto ciao Carlo ciao Carlo grande ce ne sono tanti di libri e ne ho letti veramente tanti sulla finanza immagino io magari per partire consiglierei non tanto padre ricco padre povero ma forse perché proprio alle prime armi Money Master The Game quindi soldi il libro di Tony Robbins quello mi è piaciuto tantissimo poi Tony soldi domina il gioco domina il gioco sembra che ti parla a te cioè io ho letto quel libro sembra come se avevo davanti Tony che mi ha colpito è figo è bravo è figo quindi quello è un buon libro per partire salutiamo Tony Robbins salutiamo ciao Tony noi salutiamo tu ti aspettiamo a Gurulandia we're waiting for you Tony come here no ce ne sono veramente troppi cioè sulla finanza comportamentale pensieri lenti e veloci pensieri lenti e veloci e forse è questo dove si parlava anche dell'esempio delle fercette probabilmente sì poi su determinate asset class secondo me ci sono ottimi libri fatti da un mio competitor che però stimo che lo conoscono chi è? in pochi perché non è bravo a fare marketing secondo me non è un'offesa tra i peggiori a fare marketing però tra i migliori in Italia ce lo riconosco che è bravo facciamo partire l'applauso anche qui perché a me piace tantissimo quando un contesto sì sì perché in Italia c'è questa cosa che ognuno ti racqua al suo mulino quando ok ne pensi lui fuffo bravo no no ci sono guarda io io ho fatto Gurulandia io ho fatto Gurulandia per questo voglio far venire bravo bravo vabbè non mi voglio dilungare ad esempio Gabriele Bellelli è bravo bravo cioè non è incazzaro non è scammers non è fuffaguro cioè le sa e lui è bravissimo a fare formazione quindi anche quando scrive libri li scrivi in una maniera tale che tu capisci subito ciò che sta dicendo è bravo molto bravo sulle opzioni c'è ci sono mostri sacri tipo c'è borsi è bravo sulle opzioni sulle aste fa roba un po' un po' di nicchia sui certificati ci sono mostri sacri dopo dopo questi due secondo me si scende un pochino di livello ci sono comunque persone persone brave che vedo più come i miei competitor dove sono anche bravi a fare marketing e poi tolti queste persone c'è la fuffa poi c'è la fuffa fuffa extreme quindi fuffa ce n'è tanta sempre extreme è giusto assolutamente se posso chiederti l'hai letto ritornando un attimo ai libri poi ti faccio un'altra domanda la psicologia dei soldi che è un libro che io ho letto ultimamente e che mi è piaciuto ancora ho capito qual è ancora questo qua mi manca veramente veramente bello soprattutto per chi parte da zero per quanto riguarda appunto investimenti e gestione finanziaria perché ti spiega veramente a 360 gradi quello che è il mondo della gestione finanziaria ma in un modo molto molto semplice sì è ancora importante perché sembra però è un argomento che comunque può a tante persone risulta difficile esatto perché hai visto ci sono più tanti paroloni etf interesse composto ma che è sta roba no? però come tutte le cose basta studiarle un minimo interessarsi e poi certo te fai anche info business tra le altre cose faccio anche info business noi lo facciamo con una certa idea cerchiamo adesso interessi in conflitto io cerco di ovviamente di non fare il fuffaguro è chiaro? adesso uno dirà vabbè grazie al cavolo facile dirlo grazie se li ascolti tutti sono tutti per bene noi facciamo comunque che c'è ci operiamo stile Amazon c'è la garanzia tipo Amazon se uno dice entro 30 giorni o anche in realtà anche di più se uno dice no guarda il corso non mi piace costa è troppo per quello che mi dai non rimborsiamo senza nessun problema ma in realtà la stringerti la mano complimenti pericoloso da fare in Italia perché è brutto da dire però te dico noi ne abbiamo avuti se tu fai corsi di qualità non per forza adesso dico che mi sono di qualità però se tu fai corsi di qualità difficile certo ci sarà sempre il furbetto di turno che ti ci prova però noi in realtà di rimborsi di richieste di rimborso ce ne abbiamo fatte poche cioè ce ne abbiamo poche in realtà è il target percentuale? 5% 1% ma meno 1-2% pochi 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 sul lancio può succedere sul lancio di un percorso può succedere che magari 3-4 4 rimborsi ci abbiamo ma quanti studenti è l'attivo se posso chiedere? parecchi perché adesso abbiamo difficile da dire però ne abbiamo parecchi perché abbiamo anche un'academy gratuita abbiamo quindi noi facciamo li facciamo partire da un'academy gratuita dove comunque diamo valore già da quello là academy gratuita dove la trovano? sul mio sito su risorse gratuite nel menu e la vedono si chiama kv finanziario quello è il primo step se uno si vuole avvicinare già magari qualche corso là è più avanzato di alcuni fuffaguru che se lo fanno pagare quindi uno dice cavolo già si inizia così quindi un bel lead magnet sì questo è normale facciamo le cose come sta business is business business is business esatto e dopo noi i nostri percorsi sono comunque i ticket però ecco abbiamo questa garanzia secondo me è anche questo che distingue fuffaguru da non fuffaguru hai qualche non puoi truffare nel senso se uno ti richiede il rimborso se sei di parola che promette le cose poi dopo ovvio per noi il tempo tecnico devi fare il bonifico e quelli c'hanno i soldi ovvio hai qualche cliente magari noto sì proprio posso dire esatto ho anche clienti che sono andati a legger veramente non è difficile sapere chi aspetta però no va bene parleremo dopo va bene però no sì sì ho capito chi è lui perdo le mail do you know do you know no va bene non si può dire niente non si può dire niente cioè tra l'altro so che c'è una privacy veramente molto molto io per esempio il mio consulente dipende allora sugli info business uno potrebbe pure dire su no no ma proprio consulente no no certo c'è privacy c'è una privacy molto serata non lo posso neanche dire su questo io so che addirittura ci sono consulenti che non lo dicono neanche tipo alla propria moglie cioè è proprio una cosa è vero ti giuro ti giuro è così per esempio Dario non direbbe niente neanche a sua moglie perché tanto non si interessa la mia ragazza non si interessa di non ti fa problemi non ti viene neanche chiesto neanche me lo chiedo comunque le tue società sono in Italia sono tutte e tre in Italia stai pensando paghiamo troppe tasse coraggioso stai pensando stai pensando anche te di espatriare per andare dove allora una in realtà non la possiamo spostare quella TNSCF la sede deve essere in Italia purtroppo sempre per via di certificazioni varie le altre invece possono essere spostate e forse ancora no però può darsi che le sposteremo ovviamente sposto anche la mia residenza fiscale allora voglio un attimo farti una domanda su quella che è invece la vita privata cioè sei uno di quelli che si alza alle quattro la mattina fa la doccia fredda palestra oppure cioè spiegami un attimo allora prima del figlio dormivo in realtà fino a tardi ah te hai un limbo? sì sì tre anni grande compiti auguri la notte è diventata una tortura movimentata parecchio movimentata mi sveglio più e più volte la notte ancora e da quando è nata è così è così adesso mi sveglio presto ma per il figlio quindi può essere dalle sei però alle sette prima no nel senso se alle quattro se mi sveglio alle quattro continuo a dormire sul letto vicino dall'altra parte non è che fai la doccia fredda e fai cento chilometri di corsa alle sette la mattina tipo hai già costruito un imperio riflessioni sono un mignolo hai visto? a volte mi capita che ti tocca ragazzi vuoi fare imprese io alle quattro da mattina ho già avviato un'impresa da sette minuti assurdo apro la dashboard dalle sei la mattina senti interessante ti vedo al polso un Rolex Submariner ti voglio chiedere siccome io sono appassionato di orologi per quanto riguarda perché possono essere gestione finanziaria investimento anche questi oggetti e beni di lusso pensi che ci possa stare come diversificazione in piccola percentuale del portafoglio si si è un po' su investimenti alternativi collezionismo però in alcune fasi di mercato possono reggere il prezzo anche il vino le auto di usso tutto collezionismo quadri ho visto ora il Dom Perignon l'annata 2.12 o 2.2 non mi ricordo ha fatto già un più 10 rispetto all'anno scorso perché è uscita quella nuova è chiaro che sono tutti investimenti liquidi cioè magari fatiche a rivenderli a rivenderli i Rolex no Rolex no Rolex no Rolex no se metti in vendita ora per 5 minuti l'hai venduto ma tutta la roba di lusso cioè la roba che vendi su Vinted ci metti tanto a vendere non questa roba qui ecco quadri magari vabbè sì quadro ci vuole ci vuole un po' più quindi in alcune fasi di mercato possono magari reggere meglio il prezzo rispetto ad azioni obbligazioni a volte anche oro materie prime immobiliare e cripto valute in altre fasi ad esempio su marzo 2020 periodo covid sono scese tutte le asset class o meglio le auto no se ci ricordiamo anche le auto usate succedeva che uno poteva prendere l'auto usata la rivendeva dopo totta aveva raddoppiato arrivavano più le macchie lì poi è stranissimo perché sono bene i deperibili nel senso che c'era blocco dell'industria non venivano più prodotte ma anche ora sono ancora in ritardo e anche i camper per chi è appassionato di camper sa che sono raddoppiati i prezzi boia per quanto riguarda investimenti immobiliari invece è una cosa che consigli magari a un cliente che ne ha la possibilità che ne ha la possibilità cioè li consiglio a chi magari ha una certa somma io personalmente direi sopra i 3 milioni a meno che uno lo vuole fare proprio come semilavoro che fa Airbnb magari o li affitta a notte vabbè lì si fa non per la seconda casa al male in quel caso secondo me diventa un business non un investimento poi io sono dell'idea che l'immobiliare non è una rendita passiva magari è semipassiva cioè non è il lavoro full time però comunque ci sono delle cose da fare noi in famiglia mettiamo in affitto come dicevo un capannone su quindi locazioni commerciali e comunque c'è del lavoro da fare c'è chi non ti paga chitarra con i pagamenti quanto è grande il capannone? 4 piani da 800 metri quadrati totale o l'uno? no no l'uno tanto grosso è in Umbria cioè non c'è un valore estremo però comunque si un po' vale vabbè comunque si sente l'accento Umbro si sente tra Roma e Firenze è una fantastica regione comunque l'Umbria è bellissima sottovalutata forse a volte perché lì nel mezzo secondo me visto anche quando prendi l'autostrada o vai in Umbria o se no non ci passi mai perché c'è la Toscana accanto se uno deve scegliere va in Toscana poi Toscana, Lazio ci si muove più sulla costa diciamo non ci sono tanti sbocchi lavorativi in Umbria e è difficile fare networking in Umbria però se ti piace la vita tranquilla è bello tutta campagna tutto verde Terni bellissima Perugia tu sei di Perugia due città in guerra ah sì? davvero? tipo Pisa e Livorno sì probabilmente c'è il mister Cerze Cosmi c'è sempre lì l'ho visto grande senti altro argomento super interessante che ho deciso di inserirlo in ogni puntata per qualunque ospite entra un po' perché mi sto appassionando io un po' perché veramente l'epito sia super super interessante cosa ne pensi dell'intelligenza artificiale e se qualsiasi consulente in questo caso finanziario potrebbe chissà scomparire tra un po' e essere come si dice qual è la parola o mi viene sono sostituito grazie da chat GPT o quello che è ti ho fatto un video youtube a riguardo giusto? sì sulle rendite passive ho fatto una domanda e alcune cose le sbaglia ma io so che lei non può prendere decisioni per te nel senso perché anche io ho provato a farle questi tipi di domande a farle le sto già dando del femminile per me è già una persona vabbè ho provato a farle delle domande inerenti ai investimenti e ti dice comunque che non si può sbilanciare posso svelare un segreto? prima di questa puntata sono andato su chat GPT e ho chiesto chat GPT quali domande faresti a un consulente finanziario come ospite di un podcast e me le sono scritte qua va bene allora io credo che per ora per come è fatto ad oggi è un potenziamento chat GPT per molti mestieri soprattutto magari per chi fa programmazione ok? perché sviluppa programma in maniera veloce fai codici stringhe di codici certo ma anche per chi deve preparare testi ad esempio anche per chi ha un blog se tu gli scrivi scrivimi un articolo di 700 parole su questo argomento suddividilo per magari capitoli fai una conclusione finale crea un'immagine di copertina senza copyright e te lo fa però rimanendo nel tuo settore pensi che se io chiedo chat GPT chat GPT puoi crearmi un piano di investimenti? probabilmente lo farà probabilmente lo farà rimane sempre un pochino sul vago comunque su portafogli diversificati qualcosina fa sicuramente sì io ho visto che per ora ma poi lo sistemeranno sulle opzioni fa tantissimi errori vabbè è tarato al 2021 per adesso c'è stato un aggiornamento la settimana scorsa di recente hanno preso un pezzo ancora avanti però proprio errori concettuali cioè tu gli dici una strategia te ne cita un'altra è tutto ah ok però dici che ha le potenzialità per in futuro certo lo sistemeranno certo si ottimizza l'intelligenza artificiale io interessante ho fatto anche analisi fondamentali analisi fondamentali su alcuni titoli azionari e te lo butta giù te lo butta giù è l'analisi fondamentale certo con dati un po' vecchi però te la butta giù ma te come ti si approcci? allora noi adesso stiamo iniziando ad utilizzarlo per copywriting quindi anche per preparare a volte newsletter o parte della newsletter ancora non l'abbiamo fatto per articoli finanziari perché secondo me lo scrive ancora per il momento poco da umano cioè si vede un pochino che è un po' una macchina un po' troppe ripetizioni quando scrive ho notato un po' troppe ripetizioni però manca di emozione manca un po' di emozione ma nel prompt glielo puoi dare te gli dai un prompt ma poi ci arriverà ci arriverà comunque digli anche di utilizzare un tono in una determinata maniera o di agire come se fosse quella figura e prova lei lei prova poi con un'altra società con coinsquare stiamo provando a farci piani di marketing addirittura abbiamo chiesto come pubblicizzarci per aziende e lei ci ha strutturato un piano che ci può stare ci può stare sì sì ma anche noi lo stiamo utilizzando ancora così non lo sto utilizzando un piano per ora a livello finanziario poi ci arriverà anche lì e migliorerà però lo stiamo facendo come potenziamento per magari scrivere articoli più veloci per scrivere content per questo al momento per ora il maggior utilizzo almeno per quello che sto vedendo io è in questo un po' in tutti i settori cercare di ridurre i tempi nella scrittura utilizzando quello per i social per i blog per articoli bla 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 poi sono dell'idea che a livello di investimento l'impatto emotivo c'è un po' ci deve essere sempre una relazione un po' tra uomo e uomo anche perché nel nostro settore a spostare la responsabilità e quindi la colpa su un'altra persona quindi se ovviamente se uno sbaglia la colpa non è tua o del mercato è del consulente finanziario però in quel caso la potresti spostare su una macchina però a volte capito spostano la colpa e ti ci fanno anche rimanere male capito? cioè devono vedere anche che ci rimani male questa è una cosa una macchina una macchina una macchina per ora almeno per ora non prova emozioni diciamo cioè non puoi distruggerla moralmente e questo però forse è il lato negativo del tuo lavoro fa parte del mestiere la consulente finanziaria io immagino che come consulente finanziario ti sarà successo non so qualche volta che magari qualche operazione non è andata bene per un cliente sì 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 ti è successo che magari ti sono venuti non tantissimo però a volte sì qualche battutina magari te la fanno e poi li vedi magari insoddisfatti in alcune fasi di mercato poi il mercato almeno per il momento quando ho iniziato a operare io si è sempre ripreso e quindi dopo sempre guarito tutto certo però è il mestiere è normale ma fa parte del lavoro fa parte del lavoro senti mi ricordo io a te ti ho conosciuto la prima volta che ci siamo incontrati eravamo a cena dove? eravamo a cena a pranzo forse no no a cena in spiaggia a cena ah mi sa che metteste le storie con Carlo Alberto sì c'era Carlo Alberto eravamo a cena io e te e poi c'era anche Luca Boiardi a cena con noi di The Crypto Gateway volevo sapere siccome io lo conosco personalmente ho tanta stima Luca un po' anche da parte tua cosa ne pensavi? no no bravo siamo siamo un'amicizia e siamo un'amicizia in realtà con tutti i content creator sul settore crypto salutiamo Luca Luca tra l'altro ciao Luca ti aspettiamo gurulanti no è bravo ha spinto tanto forse a volte ha azzardato ma già io l'ho detto ha azzardato un po' su alcuni brand FtX anche forse adesso non ricordo se era proprio FtX però a volte ha azzardato un po' però è il suo modello di business cioè lui al momento di corsi formativi ne vende pochi forse cioè non ne vende in realtà credo e anche di consulenza non credo che fa granché il suo modello di business credo sia più tramite referral e più lavora con i brand e quindi ha fatto le sue scelte c'è un altro modello di business ma è bravo ha spinto tantissimo su YouTube ha spinto veramente veramente tanto ha una buona presenza ha una maria di iscritti si 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 ti tiene in quel lato sullo schermo bravo ma ci conosciamo insomma abbiamo un fatto suo insomma sulle cripta bravo l'ultima domanda io scusate c'è una domanda ma perché mi interessa tantissimo c'è un modo con cui un consulente finanziario garantisce la sicurezza ha delle informazioni di un proprio cliente cioè per esempio io vengo da te però sono un maniaco della privacy ho bisogno di una consulenza privata sono una persona che ha tanti soldi che deve fare una consulenza finanziaria importante come può un consulente garantirmi questa allora noi abbiamo c'è un qualcosa che tutela in un qualche modo il dipende perché allora un cliente che viene da noi per investire quindi per fare una consulenza finanziaria deve passare per l'antiriciclaggio e per la verifica del cliente ah sì come funziona la prima volta allora dipende se la consulenza è in sede quindi dal vivo o se da remoto da remoto abbiamo un programma di videochiamate criptate che resta salvata la videochiamata dove vi faccio determinate domande devo prendere i documenti di questa persona e poi faccio un questionario antiriciclaggio a questa persona ai fini cioè nel senso ok dell'antiriciclaggio ma per quale motivo cioè lui sta facendo la consulenza è così la normativa è così la normativa va fatto questa procedura sia a livello personale che a livello aziendale perché possiamo fare la consulenza anche alle aziende alle holding ai trust vabbè li girano eh sì 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 quindi questo per forza va fatto cioè non si può sfuggire da questo ma ad alcune persone questo va bene nel senso anche le più paranoiche ok a molte cos'è che non va bene magari a comunicare su whatsapp o su chiamate normali e quindi molti chiedono di comunicare tramite signal o programmi peer to peer dove magari ecco più telegrafo no ma è normale ma ci sta è come quando ma ce ne sono tante di persone no no ma lo capisco ma io capisco anche chi fa queste richieste o personalmente ti dico la verità le farei anche io cioè perché per me è una tutela ci sta anche quando parli non solo consulenza finanziaria fiscale qualsiasi cosa comunque cose molto molto private eccetera eccetera ora whatsapp so che comunque lavora un po' però secondo me dovrebbe lavorare un po' tipo telegram se non sbaglio che c'ha la crittografia ora poi secondo me molto meno però la telegram è migliore certo tra l'altro non si sa come mai ma te tu scrivi una cosa e poi ce l'hai perché non funziona te lo scrivono perché te lo devono scrivere è vero altre persone invece magari richiedono specialmente se sono della stessa regione o della stessa città la prima consulenza ti chiedono quello che diciamo qua rimane qua eh sì è chiaro che rimane là però noi ecco per legge tutto ciò che passa da noi email no email non tanto però raccomandazioni e determinate cose rimangono su un software ed è incancellabile cioè io non lo posso cancellare in caso di problemi sia lato mio che lato cliente è la scatola nera è la scatola nera cioè si vede tutta la si vede tutto è giusto anche per una tua tutela voglio dire anche anche allora senti poi un'altra cosa ho visto un tuo video dove parlavi di delle donazioni vuoi spiegare un attimo questa cosa sì questo piace spesso piace alle persone allora io credo tanto nelle donazioni per più motivi donazioni che tipo di donazioni bella domanda allora io faccio sia donazioni dirette quindi magari do soldi in mano a delle persone perfetto guarda noi siamo qua in attesa a chi fa bene il proprio lavoro facciamo benissimo il nostro lavoro e qui però bisogna stare attenti perché se li dai magari soldi a un cameriere e io ho lavorato anni su quel settore quindi so riconoscere chi è bravo o no non si offendono queste persone perché lì c'è il concetto di mancia è normale lì quella cosa quindi non si offendono e sono contente mentre se tu dai soldi in mano ad altri magari per strada e dove altre persone vedono che tu dai soldi in mano a una persona queste persone molto facilmente si possono offendere e a me è successo quasi di arrivare alle mani davvero addirittura per dai soldi quindi io cosa faccio su donazioni dirette li metto su una lettera dove scrivo anche qualcosa e gli do la lettera in mano ai soldi e dico di aprirla dopo perché molte persone si possono arrabbiare poi faccio altre donazioni invece a denti però cerco di selezionarli bene perché lì ho fondazione perché lì dai 100 euro e gli arriva uno dal bisognoso noi stiamo adesso finanziando dei corsi su scuole elementari e medie di finanza sia personale comunque di finanza certo giusto anche comunque perché non se ne parla mai non se ne parla mai quindi stiamo facendo questo ma per quello che non se ne parla mai perché il sistema vuole che tu comunque vai in una direzione non scopra determinate altre cose secondo me e poi stiamo finanziando io cerco sempre di legarlo le donazioni a qualcosa che è in te qualcosa di emotivo su cui credi stiamo finanziando delle borse di studio tramite una fondazione per persone che hanno avuto disabilità auditive perché? perché ho avuto due interventi ad un orecchio da bambino ho rimosso un colestiatoma poi ho avuto una recidiva del colestiatoma e quindi finanziamo sia quello che è una cosa che sento mia perché appunto ho avuto questa problematica che la finanza perché anche qua la sento mia quindi noi facciamo questo e perché doniamo noi appena ci arriva magari appena a me mi arriva il compenso o anche tramite la società faccio sia donazioni private che tramite la società appena arriva magari il compenso vado subito a prelevare all'ATM i contanti ok? quindi li tengo in mano li vedo li visualizzo questi contanti li tocco sono molto a mio agio e dono perché dono? perché uno perché credo tanto nel karma può sembrare una cazzata però credo tanto nel karma quindi più fai del bene più il bene ti torna due perché ti torna sicuramente anche l'immagine non lo nego infatti anche i ricchi fanno questo sicuramente anche a livello tasse può aiutare però non lo faccio per questo ma il grande la Terragni ha devoluto tutto l'incasso di Sanremo in donazione il grande perché lo faccio perché donare ti aiuta a riprogrammare mentalmente a riprogrammarti mentalmente perché ti abitui al concetto di abbondanza del denaro perché se tu doni stai dicendo e più doni tu stai dicendo sono bravo riesco a creare denaro e quindi lo so creare e da imprenditore da investitore questo ti aiuta tantissimo ti senti ancora più tuo agio e ti metti in una condizione di fare più soldi c'entra la legge l'attrazione e tutto ciò secondo me in parte probabilmente sì non credo ci sia una spiegazione scientifica però funziona cioè gli investimenti migliori quali sono sono quell'informazione dove c'è un altro ROI chiaramente ma anche nelle donazioni tu metti 100 euro nelle donazioni te ne ritornano 1000 minimo so che sembra la cavolata però è così io sono no no davvero ti sto guardando ti sto ascoltando con estrema attenzione non dico niente perché sono affascinato da quello che stai dicendo credo fortemente anche io nella legge dell'attrazione credo fortemente anche io nel karma e non no davvero io credo che fortemente voi farete una donazione a me no però è vero tra l'altro non sei il primo da cui sento questa cosa da cui sento che tante volte mi è capitato di parlare con persone anche di insomma con un patrimonio importante che fanno grossa beneficenza e anche egoisticamente se vogliamo dirlo mi è già successo che mi hanno detto non faccio beneficenza per la persona ma lo faccio per me capito cioè te non fai beneficenza perché vuoi fare del bene a lui ma è come ti fa stare sì esatto che purtroppo fa del bene a lui però anche egoisticamente fa del bene anche a te stesso proprio per quello che sta dicendo Filippo c'è un bellissimo libro qua è un win to win alla fine alla fine voglio dire fan tutti alla stessa maniera cioè poi la televisione ci fanno passare che magari quello è stato bravo addonato c'è sempre un motivo poi c'è un bellissimo libro c'è anche la scusami poi c'è passazione no c'è anche chi fa beneficenza per il ritorno di immagine e basta solitamente perché si dice la beneficenza si fa in silenzio quello che senti in televisione è tutta o sì io sono d'accordo c'è tanti per esempio quelli che fanno i tiktok che vanno a dare soldi ai senza tetto per la strada sì no per l'amor di Dio almeno lui lo fa e va bene comunque i 50 euro al senza tetto gli hai dato probabilmente lo hai aiutato lo picchiano e gli rubano tutti i soldi ma però perché farlo vedere su tiktok per qualche like e qualche follow non gli piacciono proprio quelle pagine quella roba là comunque dicevo qua c'è un libro che si chiama o happy money o smart money cercatelo voi da casa da youtube che spiega a livello scientifico quindi c'è in realtà una spiegazione cosa ci rende felici nel spendere i nostri soldi perché noi potremmo spendere i nostri soldi e comprare non so un iphone un'auto rilascia dopo a meno questa rilascia dopo a meno ti rimane tre giorni se compri l'iphone sei contento tre giorni poi è finita anche meno forse un giorno bravo bravissimo t'abitui sempre è sempre peggio e mentre se tu spendi soldi in esperienze quindi in viaggi ti rimane molto di più in circolo quindi sei contento e la cosa che dà di più dopamina sono le donazioni cosa che è strana allora nella nostra cultura poi è strana non siamo abituati a donare anche perché ci hanno tra virgolette obbligato in certi contesti senza offendere nessuno ad esempio in chiesa grande bravo ci pensavo prima ok tu ti senti quasi obbligato obbligato invece nelle donazioni tu non ti devi sentire obbligato questo è molto importante ce lo devi fare perché viene da te da dentro ok tu in chiesa è molto particolare c'è sempre il piattino tu fai cadere i soldi tutti ti vedono ti senti in colpa se tu non doni perché non si sente il rumore che sembra tipo il casino a Las Vegas ma lì è il contrario di quello che dicevi prima ma è studiato anche là è studiato ok è il contrario guarda che il Vaticano è il più grande marketer no no sono bravi non voglio entrare in questo argomento perché è pericoloso chissà come si fa per prendere residenza là lì davvero potrebbero potrebbero fare infobusiness tra l'altro se lavori a Vaticano tuo figlio lo battizza il papa è una regola che c'è all'interno vabbè qui si va su altri argomenti vabbè tutto così quindi tu le donazioni le devi fare per far valere la riprogrammazione spontanee cioè di tua volontà non ti devi sentire obbligato e le devi fare in realtà a persone che non conosci quindi devi andare fuori dalla tua zona di comfort o a persone che addirittura odi o che sai che ce l'hanno con te perché tu in quella maniera ti riprogrammi cioè fai una cosa che va contro il tuo status qua cioè non sei abituato e comunque ce l'avranno lo stesso con te cioè probabile perché le cose si dimenticano non vanno fatte a familiari ad amici cioè puoi anche fare non vanno fatte a familiari ad amici no perché tu già sei abituato cioè ti senti già a tuo agio tu invece ti devi mettere non a tuo agio ok ti dando un senso di appagatezza diverso forse in realtà qua il senso un po' della vita e della crescita è mettersi fuori dalla tua comfort zone sempre anche nel business in tutto anche qua le donazioni tu devi donare a chi non conosci chiaro chiaro però che sai che gli arrivano sai che gli arrivano sai che gli arrivano sì va bene ragazzi io direi che possiamo chiudere qua una puntata secondo me molto bella bellissima interessantissima grazie mille a Filippo per essere stati con noi facciamo partire l'applauso a Filippo e niente noi tanto ci vediamo ovviamente ogni martedì ci vediamo e ci sentiamo e ci sentiamo ogni martedì all'ora 21 prossima puntata tra l'altro è una puntata un po' diversa non quella con Filippo quella con Filippo una puntata molto seria di tanto valore la prossima puntata nasoroso ci sta ci sta diversifichiamo anche noi grazie davvero Filippo ovviamente trovate tutti i link di Filippo nella descrizione e ciao a tutti ciao ragazzi ciao